Un salve a tutti da Philips89, siamo qua su XCOM che metta la squadra dobbiamo eliminare Atlas, vediamo se la missione finale si la squadra va bene, va più che bene prepararsi all'impatto pronti a tutto, tutte le unità che passano in questo ingresso ottengono 50 di schivata per un round seguitemi seguitemi non 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 Ah, ci piace questo tema Le vecchie planimetrie mostravano un'area vuota Proprio dentro il muro Come facevo a sapere che era il poligono di tiro della Verla? In realtà non ero così emozionato da settimane Bene, chi attacca con il mando E me Non crederei di avvicinarci Per attaccare il me Il nemico non si muove Come hai fatto? Dopo trattacchiamo La prossima volta mira alla testa Attacca il sicario Non credo che lo faremo fuori Deviato dall'armatura Localizzo l'arma del bersaglio E' andato a vuoto Meglio a te che a me Grazie Grazie Possiamo respirare Ora attacca lui Deviato dall'armatura Granata lanciata Granata lanciata Sto bene per ora Resta a terra Sto arrivando Mi serve la scorta? Qualsiasi cosa si muova Capri la zona Lo sapevo Copritemi mentre ricarico Allora Ricarica gratis Ricaricato La porta E dai un bel coltello L'armatura del bersaglio L'armatura del bersaglio Ha deviato il colpo Che male Non ci serve a niente Se muori esangue Sto bene Non ha colpito l'osso Medica la ferita Se devi Ok dove ti mandiamo Mi muovo verso il bersaglio Metto fuori uso l'arma del bersaglio Ho subito un colpo pesante Sto finendo le munizioni Nemico fuori gioco Merda Ho ricaricato E' lui il 74% Il nemico ci ha salutato Come da procedura Non credo sappiano Che siete qui Ok lo sanno Muovetevi Sono quattro round Credo molta attività All'ottantesimo piano C'è un ascensore più avanti Dovrebbe portarvi dritti lì Trappola ritardata L'ultima unità che passa da questo ingresso E viene immobilizzata per un round Tutti i nemici non aggressivi Ok Tutte le unità che passano da questo ingresso Ottengono il 50% Ci sono meno nemici aggressivi In questo ingresso Ok Sto entrando 24% 20% 37% No Ci devono Ok Ci devono Serve una tessera magnetica Per l'ascensore Uno di questi scagnozzi Della Verla Deve averne una Ecco Prendete la tessera magnetica E andate all'ottantesimo piano Toglietemi di mezzo Crazy Della Verla Non lo ammazziamo per un colpo Un poco rapido Proviamo Nooo Mancato il nemico Mancato il nemico Forse ne ammazziamo tre con un po' Abbattuto il nemico Sto ricaricando Attacca lui E' lui Sparo a tutto ciò che si muove Così abbiamo più opzioni Come hai fatto a mancare un bersaglio così grosso? Allora cerchiamo di indebolire il prossimo Bersaglio a terra Non vedo movimento Da manuale Fate spazio Resta vicino Ok? Nemico ucciso Bene Dai qui Come non l'hai fatto fuori? Ah no Ti hanno colpito Ancora in piedi Cambio posizione Rituco lo scudo Munizioni quasi finite Fate largo Nemico fuori dai giochi Da dove arrivano i nemici? Da qua E da qua Mi sposto Flocco i nemici Vado dove servo Devo ricaricare Non ho munizioni Direi di andarci Nontro Ci dai Arma di caricata E' uscito un numerino Sangue sulla giacca Di nuovo? Non hai niente di cui lamentarti Gravemente ferita Ancora in piedi Oh cavolo Meglio dei punti Sarete totalmente scoperti lassù Non morirò su un tetto Forse voi si ma io no Trio di mobilità Supervisore Un'ultima mobilità che passa da questo ingresso Guardia un'automata l'antro Action E' lei in guardia che può fare più attacca Restate dietro di me Restate dietro di me Restate dietro di me Quella Che fa lui Che fa delle scuole E' egli portati E' tentiamo Poteva andare dall'altro lato No, era più o meno la stessa cosa No, lui non lo interessa Uccidiamo, lui, abbiamo scarse probabilità Versaglio ucciso Voi altri arrendeteli Un bersaglio in me Ricaricato Vado Peccato il bersaglio In azione Non allontanarti troppo Ah, andate Fate spazio Datti una mossa Nemico fuori dai giochi Copritemi Dove... Oh, capisco Sto di guardia Ottima copertura Occhi aperti Le munizioni stanno per finire Quasi a secco Mi preparo al fiancheggiamento Punizioni quasi finite Toglietevi di mezzo L'armatura ha smorzato il colpo Riusciamo a trovare un punto debole Riusciamo a trovare un punto debole Finisco Ostile a terra Ricaricato Ferita superficiale Sped Sono qui, attaccami! Sì, vai di vicino. Versaglio a terra. Molto meno superficiale di me. L'arma è scarica! Sono pronta a tutto. No, potremmo stare qua. Vado subito. Oh, sì, vai. Devo ricaricare. Vado poco. A terra! Il milico non si muove. Sì, abbiamo più spazio di manovra. Mi sposto! Il nemico mi ha mancato! Mi ha rimbalzato addosso! Devo darci uno sguardo? Ok, che ruppo. Dobbiamo fare fuori qualcuno del tipo. Non abbiamo munizioni. Sì, qui. Ricarica. Rieccomi! Sì, faccio un po' di lui Sono ferita, ce la faccio Devo muovermi, mantieni la copertura 65% Potevo fare guardia La prossima volta mira alla testa È per questo che mi tenete con voi Devo ricaricare Arma carica Ancora qui Non lasciare che si infetti Non hai visto lo scudo, eh? Ingaggia il bersaglio Questa è una puzza di danni interni Posso fare qualcosa? Era un colpo di avvertimento Questo è un po' più colombiano Peccato il bersaglio Bene A che curato Sta bene Diamo un turno A lui A chi lei dà Ma fa come me Nemico fuori gioco Merda Gli spacco il cranio Lui è stordito Andiamo qui Mi muovo Facciamo un po' di Un bersaglio in meno Ricaricato Ho quasi finito le munizioni Dai qui Ho trovato una posizione migliore Vediamo cosa succede Le pressi sono aumentate Tutte le unità che entrano da qui Hanno 25% di difesa Ero Riflessi aumentati Tutte le unità che entrano da qui Di difesa Di mira Ok Irruzione 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 Seguitemi Bene Ci vai di fronte Sono tutti aggressivi Quindi Nuova l'altra Deviato dall'armatura Facciamo un po' di fronte Facciamo un po' di fronte XCOM, debonete le armi Il nome è Chimera Squad E fanculo per tutto quello che hai fatto Tutto quello che ho fatto Ho ricordato a questa città cosa le serve per sopravvivere Non sai quello che dici Gli anziani torneranno Possiamo sconfiggerli solo eliminando la debolezza dai nostri cuori È per questo che hai ucciso il sindaco Qualche vittima oggi o tutto il mondo domani È una scelta facile Non è un mondo in cui voglio vivere Vi rifiutate di riconoscere cosa c'è in gioco? Bene, Verla, distruggeteli Ok Vediamo un'azione a... Mi sto muovendo Spostati o muori Bene, ti sei cacciato e preparo Sto arrivando Bello spostato Deviazione È proprio un'armatura resistente Almeno non hai mancato il colpo La sua voce Triste E dolce Che attacca Versagli e segna Versagli e segna Versagli e segna Posso continuare Sì, serviranno dei punti Ho subito un colpo pesante Sarà cura Serve un aiutino? Ora lo spray tecnologico farà il suo lavoro Non posso dare il burro Dai fuori lei Ancora qui È per questo che mi tenete con voi Ho subito un colpo pesante Sì, serviranno dei punti Ah, ferita superficiale Controlla la ferita Sono ferita Ce la faccio Devo darci uno sguardo? Sto ricaricando Forse lo metti per anche passo Ma Non sono riuscito a resistere Nemico ucciso peccato il bersaglio nemico fuorigioco mi blindo gravemente ferita ancora in piedi attiro il fuoco su di me attiro il fuoco su di me attiro il fuoco su di me posso ancora combattere cadi nel silenzio sto bene non ha colpito l'osso non lasciare che si infetti sto ricaricando quasi a secco quasi a secco oh no munizioni finite ho ricaricato bersaglio a terra non vedo movimento notevole sono protetto guardia eroe della città esco hai chiuso chimera squad la direttrice è qui riposo un mese fa eravate pochi a corto di armi e in un alloggio provvisorio ehi quel posto aveva stile e i topi tanti topi ora la chimera scuode al completo con le migliori risorse del quartier generale XCOM la città 31 è in buone mani presa di ostaggio a Old Town serviremo tutti questa volta chimera squad formazione e partenza scusi l'interruzione non serve altro forza al lavoro l'agenzia è consolidata noi perduti non c'è scelta la battaglia per la città è persa gli XCOM capiranno di essere in guerra e quando troppo tardi bene ragazzi per oggi è tutto qua ci sono i titoli di coda e non ve li lascio vedere se l'episodio vi è piaciuto vi invito a lasciare un like commentare e condividere e ad iscrivervi se non l'avete già fatto un saluto da philips89 alla prossima ciao 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 ciao